Partiamo subito perché sono in ritardo sulla tabella Un po' sfocato Ok E dai Un po' di mele Sono in ritardo sulla tabella di marcia Porno no C'ho tutto Non c'ho tutto Ok c'ho tutto Ok c'ho tutto pensavo di aver dimenticato il cibo allora ieri sera ho visto un documentario molto bello il debito americano e adesso facciamo un'elezione di economia che io so tutto allora quando l'oro sale il prezzo scende e il succo d'arancia congelato scende e sale allora il debito americano è 10 anzi 14 trilioni di dollari che sono 14 milioni di milioni di dollari che sono 14 miliardi di dollari no 14 no sono 14 mila miliardi di dollari con l'italiano è solo uno sputo 2 due e mezzo così no sempre trilioni 2 mila e 500 miliardi di dollari poi c'è da dire che allora il documentario parlava che in america c'è questo debito perché ci sono poche tasse effettivamente abbiamo poche tasse non è come l'italia che c'è tipo 40% di tasse no da noi c'è il 25 poi il 30 e tutti i presidenti ovviamente per farsi eleggere di iran e hanno detto guardate le mie labbra no tasse ovviamente i repubblicani c'era Reagan c'era Bush che l'aveva detto Reagan addirittura quando è andato su ha tagliato le tasse di brutto però dopo ha visto che il debito pubblico continuava a salire allora l'ha rimesso e anche Bush 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 Junior ha fatto un casino non ha mai alzato le tasse però il debito pubblico continua a salire e poi è bello perché uno dice basta con sto made in China adesso facciamo tutto da noi adesso sbologniamo la Cina che c'era la Cina è quello che mantiene è uno dei creditori degli Stati Uniti più grossi cioè non puoi sbolognare la Cina neanche morta devi tenere a vita a meno che gli paghi tutti i debiti che c'hai adesso sto parlando degli Stati Uniti poi non lo so nel documentario ha detto che non può continuare sta cosa perché ogni anno si aggiungono si aggiungono per il 2020 hanno già stimato che saranno 21 mila miliardi di dollari di debito a un certo punto la bolla si scoppierà e allora si vedranno delle belle ovviamente difficile ovviamente Obama aveva l'idea bella quella lì della sanità pubblica come in Italia però non si può fare anche volendo non la puoi fare perché costa troppo che fossimo senza debito tanto qua a me ci sono questioni di debito non la puoi fare poi ovviamente la guerra costa un casino infatti tutte le volte penso ci sono dei missili un missile di merda che una serata ne sparano 50 uno di quelli costa un milione di dollari un missilaccio di merda ma non posso sparare le bombe non sono fatte a mano prendere i cinesi fare delle bombe fatte un po' scala no tutte intelligenti sono case di soldi la gente non ci arriva in testa poi non ci arriva in testa dove vanno finire tutti i soldi e poi la scimmia la scimmia che lavora con me tac lei subito repubblicani vota guerra poi comunque c'è a dire che adesso aperte parentesi c'è ci sono delle cose a parte le guerre che sono social security sarebbe come la pensione italiana no? in Italia c'è la pensione e anche in America c'è la pensione si chiama social security no? sicurezza sociale ma c'è da dire che in America devi essere proprio povero povero per basarti solo sulla pensione la gente normale la piglia tipo me che so Mary Fish ce la piglia però non potresti mai vivere sulla pensione ovviamente c'hai dei fondi tuoi invece in Italia molto spesso la gente proprio si basa su quello e basta non lo so evidentemente non ha potuto mettere da parte niente però in America tutta la gente mette da parte qualcosa invece in Italia no si basa poi ci sono altre due cose che gravano sul bilancio che sono il Medicaid e il Medicare Medicare è una specie di assicurazione medica gratis per le persone di oltre i 65 anni perché mo voi sicuramente pensavate me la devi pagare fino a che mo muori no dopo i 65 anni te c'hai il Medicare e quella costa un casino perché le industrie farmaceutiche fanno un casino di soldi e poi c'è il Medicaid che dovrebbe secondo me adesso non mi ricordo bene ma dovrebbe essere una specie così proprio per le persone povere povere che non possono permetterselo allora c'è però praticamente adesso poi che l'età media delle persone si allunga hanno fatto vedere il grafico che sto Medicare 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 Social Security alla fine è piglierato di soldi sarà quello è quello che è in debita di brutto io non lo so ma i vecchi cosa vogliono curarsi ancora via via nella camera a gas come direbbe COSO allora è tutto qua no ovviamente gli Stati Uniti sono indebitati per le guerre io direi però siccome ci sono questi investitori cinesi non so che cavolo per le guerre tutte queste cose qua no se sono indebitati per le guerre ok e poi perché non fanno pagare tante tasse ai cittadini i cittadini ovviamente votano quello che ti dice non ti faremo pagare una tassa però in realtà è conto e invece in Italia beh allora stamattina mi sono documentato perché ovviamente uno dice perché c'è il debito pubblico in Italia perché Craxi si è mangiato tutto e poi è andato a vivere in Libia o di quale per me secondo me quello è minimale tipo gli sprechi politici è minimale un po' sì però cioè difficile mangiarti 2000 miliardi di euro difficile sarà che ne so la crescita l'inflazione quelle robe quelle robe lì che non si capisce niente comunque guardavo gli stati con il debito pubblico al primo posto gli stati uniti al secondo posto gli inglesi ah io pensavo l'Italia che debito a mille però gli altri stati a parte quelli lì Grecia Spagna no e invece stati uniti debito è il primo primo in tutto siamo secondo posto Inghilterra anche l'Inghilterra mi ha sorpreso perché Laura poi c'è la regina la regina cioè mi sembra strano che la regina sia un magna un magna un magna generale vabbè tico sarei a comprare il castellino lì a Wings o due o tre iPod adesso vuole che si comprasse un po' l'iPad ma non lo so poi la Germania anche la Germania porca Puzzo io pensavo alla Germania tutti i precisini invece no la Francia e invece l'Italia c'è l'Italia ha il quinto posto e mi sono stupito io dicevo Stati Uniti poi c'è l'Italia no l'Italia addirittura ha meno debito che la Francia e della Germania e dell'Inghilterra non so io come funzioni poi c'è anche il Giappone c'è il debito ma allora che cavolo c'è non c'è il debito secondo me il debito non ce l'hanno solo i paesi arabi che c'hanno il petrolio si ma fra 200 anni i giochi si vedranno perché il petrolio sarà finito e quei baluba là che adesso sono tutti belli ricchi faranno la fame perché non c'hanno niente a parte il petrolio cosa c'hanno? C'hanno il sole il sole il deserto basta e dopo riderò io e basta tutto qua poi niente tutto qua allora altre cose ieri sera ho guardato un nuovo programma show su flicker che non mi ricordo il titolo si chiama car car apocalypse car apocalypse una specie di documentario sul demolition derby no? praticamente ci sono queste gare che fanno in florida ovviamente di demolition derby e allora prima ti fanno conoscere i protagonisti questo è un reality un tutorial un po' datato mi sembra da vederlo comunque allora c'erano pilonci raggiocere poi c'era una donna con la sua figlia ero lì a metà posto il motore ma io in italia non ho mai visto donne meccaniche così poi tra l'altro anche uno che viene in kayak sua moglie che a vederla non è neanche sembra una sportiva un po' cicciotta poi fa non è che fa una formula nascar però guida cioè guida è una pilota una pilota guida fa una specie spaventemente non è nascar però fanno una specie di gara nascar con le macchine così stock e lei meccanico saldatore salda molto strano sono quelle quelle attività che gli amicani li fanno e gli italiani non li farebbero mai avete mai visto una donna che va a pesca in italia mai ma invece qua la pesca è bellissima la pesca ma no le donne vanno sempre a pesca anche ciusca no vi ricordate poi lei è patita per la pesca andava sempre a pesca comunque allora mi hanno fatto vedere tutto qua poi facciano vedere le gare allora c'era dovevano fare sulla pista una specie di otto però innanzitutto cioè la sfida comprendeva che dovevano prima consprarsi un minivan allora vanno a cercare un minivan tra l'altro compro uno compro un minivan a 250 dollari ma pochissimo ovviamente senza i problemi però poi arrivano a fare la gara e dopo non farla tutta in retromarcia no ovviamente con schiaggio